ciao a tutti i ragazzi ciao a tutti i ragazzi e benvenuti a questo nuovissimo video di minecraft oggi in realtà è un secondo dopo che abbia registrato un secondo dopo aver registrato un video fatto arm il video ha fatto precedentemente questo è il secondo video e oggi perchè sta raggando tutto a minecraft oggi farò una skywar ah questo è il menu spettatore si mi butto qua non ancora la skin però magari in descrizione vi metto la foto con la skin e boh io mi butto in un'altra lobby no non l'ho disattivata mi spero di averla disattivata mi hai rubato tutto ladro che cosa ha quello l'hac per rubare tutto subito ma va a rubarmi tutto ladro capisco che anch'io sono ladro però sono più ladro di te sono genio hai scappato sono due ceste e di quelle due ceste zitti eh non dite niente ah io avevo tanta voglia di scavare un po' in giro o no se troviamo qualche altro diamante mi farebbe proprio comodo anche un po' di ferro per farmi l'armatura almeno la chestplate pollo di merda ok mi stavo un po' sulla tosse altro ferro e da c'è lingotti fortunazza diamante 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 buh due di ferro non mi faccio niente mi faccio almeno la spada in diamante è già morto ok Tiffany vedi di non morire oh mi sta dando armatura grazie la mia classica faccina che ci sarà sempre ma non cioè tu sei full diamond non è schifoso il cavolo cioè mi è full diamond è un chiesino cioè mi ha dato i pantaloni mi frega pure no ma fa ma fa odioso sei mi sa l'inventario pieno giusto giusto per rubarmi tutto si è fatto pure di inventarmi allora vediamo se non ha neanche piazzato una crafting table ma che ti serve le ah per farti le i ponti ma che cazzo mi serve un'ascia ma perché allora ho fregato una freccia di bello oh oh c'è qualcuno non dovrei neanche dai dai birko ti sei fatto la spada praticamente l'hai fatta bugarti non si bugga niente che bello un po' di ferro per farmi giusto giusto la cesta il egoismo della gente io mi sono fregato tutto ma perché quello lì stava fermo non faceva niente beh sì sono stata un po' lada ma è quanto questo questo si è preso tutta l'armatura c'è un altro diamante mi faccio qualcos'altro diamante armature ok ferro 5 di ferro non mi basta almeno 8 serve un altro di ferro dai arriviamo 8 un altro lì sì è cotto ok fatti un altro lasciamo perdere sto per failare ok 8 9 aspetta perché sto prendendo un altro ah per farmi un altro ma è pure giusto ancora questi fuochi d'artificio mi fa laggare il servo ecco perché c'è l'h accanto i fuochi d'artificio ah sì come l'avrete capito forse c'è adesso mi dà l'armatura quanto ti devo odiare quanto ti devo odiare vabbò intanto me l'ha data almeno mi faccio il resto mi faccio la copola sta laggando come i fazzoletti un isofondo che che cazzo va bene facciamo il ponte ho quasi uno stack di cobblestone ah ha già fatto il ponticello eh lì i fuochi d'artificio è basso ma ce la tieni ma c'è qualcuno ma c'è qualcuno ma minchia le palle dai no seriamente lo lì è l'antic knockback mi sa di sì crudo non devo avvelenarmi ah no 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 l'antic knockback ma pure l'arco perché lancia armature nel vuoto l'arco ti ho lanciatura ti andati no all'arco 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 ho un fame è morto è stimo ah ma mi sa che è privata qua non so come si non so ti proteggo io ti faccio pure la barriere per quando posso essere utile ti faccio ok giusto perché no spero così zitti ok vediamo metto un attimo in pausa se non viene il video di lungo al mondo ok eccoci qua piu 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 basta sti pochi d'attificio della ma che problemi hanno perché non ha senso le tnt lancia devo dire utilissime cose per far lagare possono essere utili no che cazzo no no non mi piacciono questi rumori ok non c'è niente cioè ok insomma ha ucciso Rich ok Rich non conosce nessuno basta sti fuochi d'artificio sclero che cosa stai facendo cioè un giorno guarda facendo fin adesso mi sembra una femmina non c'ho neanche pensato mi sembra una femmina no no hai visto tutto fuorba chi o no vedi guarda pure l'altro tizio tutti i due fulgari c'è tutta la tnt c'è dio mio io prontissima ero ok posso dover essere pronto quando serve non quando non serve perché non le appiazza ah se sono solo qua li li pazza che bella li li pazza no water li li water li water ci credo di tutto water dove l'hai fatta aspetta ma siamo siamo i sei giocatori con quattro team c'è gerry scottili siamo al 04 youtube non era molto aspettiamo una cosa che non dovrei fare ma la faccio quindi datemi 10 euro che 10 euro valgono cioè non in senso oh merda muore male muore male cosa mi ho dato io il primo colpo aspetta io che armatura avevo eccola lì ah beh eh no l'era full time vedi quell' tifani ti che cazzo sei che cazzo oddio hai già al centro no no non è al centro what the fuck aspetta ma quando sei io hai qua lo ti hai detto cioè ah questo blocchetto qua ragazzi qui sotto nei commenti hashtag tristezza per Mirko perché non trova non riesce a far tempo qualcuno e perché non sanno mettere di blocchi che cos'è poi metterci tipo una tn t che non puoi accendere big party big party poi i party dei maiali non lo conosco ok che droga stavolta che quale qua quanto vi c'è l'acqua che rovesi so tipo si paga il blocco invisibile ma l'acqua passa ok andiamo a vedere da turkish power lo schifoso ah non era siamo il 04 poi ma non le ender perché non funzionano così poveretto mi dispiace anche a me succede marin in diamanti diamanti aspetta che spaventano boh è uscito il gioco esci ok ragazzi questa è una delle peggiori skywalk che abbia mai fatto ma d'altronde il server trollandi ha chiuso la manutenzione prendo la mia non ho neanche avvertito sono quasi arrivato a mezz'ora tra poco devo chiudere perché se ovviamente lo taglio il video o almeno spero di riuscirci provo ad entrare in questo server voglio farvi vedere un po' di skyblock ma mi sa che non va c'è 5 dai dammi il terreno non va niente niente è proprio chiuso adesso ok non capisco perché 176 millisecondi e mi dai 4 tacche su 5 ma che cattivo andiamo un attimo la WGF andiamo a vedere se le Vanilla Magic Vanilla Ice Magic sono aperte devo fare il login lo taglio tanto ok ho tagliato il login ragazzi ed eccoci qua WGF non c'è portale Vanilla Ice Magic presto disponibile prendi per il colo prendi per il colo andiamo a vedere che usaggio dietro ah grazie 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 mille appena mi funzionerà il Trollandia farò dei video nel Trollandia vi assicuro che il Trollandia è buono con i Skywars anche se gli helper sono rari molto rari sono moltissimo rari troppo quindi è pieno di hackers ma non c'è c'è cioè mi segnalano mi segnalano comunque come hack ci sono le scritte e io eh è stato pensato secondo me sono delle cavolate finte anzi no ci ho ripensato non sono delle cavolate per niente però gli helper comunque ad esempio nelle Skyblock del il sottotit 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 vabbè soprattutto le Skyblock se sono bagate delle casse e un mio amico non riesce più a aprirle lì dentro è pieno di roba giusto giusto è diffuso tanto eh rimane così sembra eh bella questa screen fatto vabbè comunque ehm ma l'ho fermato il video oddio non l'ho fermato e che pigna rule di fuoco al mondo aspettate anzi ci ho ripensato non aspettate niente perché è brutto aspettiamo su dieci nove otto sette sei cinque quattro tre due uno toro